Buongiorno, la nostra lezione, il giorno d'oggi, si occuperà degli argomenti dello studio del Congresso Mondiale a Bilnius. L'argomento della lezione è la Siria, la decina. Voi potete trovare questi argomenti di studio nell'internet, anche potete fare le domande, le domande selezionate sul tema, sull'argomento se non fate lezione. Rav, noi abbiamo iniziato a parlare della nostra situazione sul creatore, sulla creazione, su tutta la realtà, dal posto dove la forza superiore ci appartiene. Che lo scopo della creazione è beneficiare le creature, che per poter beneficiare le sue creature ha bisogno che esistano. E per questo le ha create, e le ha create esattamente con le stesse tappe, con le stesse qualità, perché il suo obiettivo sia realizzato. E pertanto, da un principio, abbiamo il desiderio di dare, da parte del creatore, e questo stesso desiderio rispetto a noi, che si relaziona con noi, questo desiderio superiore, questo desiderio superiore per realizzare se stesso, crea dentro di sé il contrario, il desiderio di ricevere, un punto nero, nella luce superiore. E questo punto inizia a svilupparsi, il desiderio stesso, che ancora è solamente un solo punto, perché se no, per questo non possiamo nemmeno parlare di questo stesso desiderio. Questa tappa si chiama la fase di Shoresh, di radice, e quando per mezzo del desiderio che influenza su questo punto, per mezzo del desiderio superiore, che influenza sul punto del desiderio che ha creato, su questo punto nero, questo punto inizia a svilupparsi da un punto che non sente in realtà niente, che è come se fosse che non esistesse rispetto a se stesso, e arriva alla situazione nella quale vuole ricevere. Però questo desiderio di ricevere si trova completamente, giustamente, sotto il governo del superiore. E ancora non si sente nella creatura che sia lei che vuole ricevere. E questo desiderio, pertanto, interamente, è il desiderio di dare del superiore rispetto al desiderio di ricevere dell'inferiore, che ancora rispetto all'inferiore è zero. Ma, unicamente, il desiderio di dare risiede in lui, in lei. E questa fase si chiama fase di Chokhmà, la forza di Mà. e dopo, a partire dal fatto che il desiderio di ricevere, che si sviluppa dentro del desiderio di dare, inizia a sentire il datore, colui che dà. e inizia, giustamente, a partire dal suo desiderio di ricevere, inizia a voler essere un datore. E questa fase in cui si sviluppa si chiama la fase Bet, 2, o Bina, il desiderio di dare. E a partire dal fatto che la fase 2 vuole dare, cerca in che maniera dare, e decide, nella sua metà, che ha bisogno, per questo, giustamente, di essere un ricettore. e quindi, pianifica come può arrivare ad essere un ricettore per se stesso, ossia che abbia il suo proprio desiderio, e quindi, attira un desiderio di ricevere della prima fase, e costruisce questo desiderio di ricevere in lei, la creatura, e questo stesso desiderio di ricevere della fase 1, che la fase 2 attira, si chiama la terza fase, che è veramente in Zerampin, la terza fase, abbiamo il desiderio di ricevere che la fase numero 2 ha tirato per dare, e che pertanto Zerampin, in realtà, è il desiderio di dare della fase numero 2. Però, quindi, quando cresce in lui il desiderio di ricevere, così come ha pianificato la fase numero 2, sempre più, a partire dalla posizione tra il desiderio di ricevere e il desiderio di dare, che si manifesta nella fase Zerampin, la fase 3, allora si rivela la fase numero 4, che interamente è desiderio di ricevere solamente, senza desiderio di dare in nessun senso. e se facciamo un conto, abbiamo cinque fasi e se facciamo un calcolo che sia più preciso, allora abbiamo dieci parti e non cinque. questo vuol dire come Keter, Kokhmà, Binah sono le fasi 0, 1 e 2 e Malchut è la quarta e le altre sei parti, quelli che si chiamano i sei estremi, sono Zerampin e dalla combinazione di quello che è la forza di dare, la forza di ricevere che c'è in Zerampin, che Binah deve connetterli insieme in maniera tale che unicamente in questa maniera è che arriva il suo desiderio di ricevere in Malchut ad essere indipendente, che ci sia in Zerampin come Keter, Kokmai, Binah questo si chiama Keter, Givuraiti, Etiferet e che dopo Nezach, Yot il datore e il ricettore e la combinazione tra di loro che è Yesot e che tutti sono come le prime nove Sifirot Reshanot rispetto a Malchut così come ci risultano in definitiva dieci Sifirot o Cinque Fasi e Avaya e tutti le altre tipi di forme che è così come chiamiamo l'unica struttura esistente nella spiritualità e a partire da qui noi siamo arrivati alla comprensione che dieci dieci parti sono necessarie né più né meno ma esattamente dieci per realizzare l'obiettivo del creatore di creare la creatura che la creatura riceva quindi il suo beneficio e veramente Malchut Densof la quarta fase quando lei riceve ha piacere in accordo al suo proprio desiderio che questo stesso desiderio di dare che si trova in Keter si realizza nel desiderio di ricevere della quarta fase e pertanto la decina in quella che è la struttura di dieci è l'unica struttura che esiste in tutta la creazione in ogni parte della creazione sulla quale si può parlare e in tutta la creazione intera né più né meno e se noi alle volte parliamo di tre sefirot o quattro o sei o tutti i tipi di forme che ci possono essere tra di loro quello di cui parliamo è dell'intensità che hanno le dieci sefirot ma mai né più né meno di quello che è il loro numero e le parti che così come noi diciamo che abbiamo gar tre o sat sette o che è piccolo o che è grande o che non ha testa o che sì che ha testa o altro o che ci sono tredici parti o sette tutto tutto è unicamente ed esclusivamente per denominare una certa intensità che hanno le dieci sefirot e quindi quello che adesso io chiedo è tornare a ripetere la stessa storia lo stesso racconto e parlate su di questo aiutandovi l'uno all'altro parlate insieme non uno dopo l'altro ma in tal maniera che ognuno aggiunge una frase delicatamente per non confondere gli altri ossia la stessa storia come dal pensiero della creazione che è la fase di radice Shorish come inizia a costruirsi un punto nero e tutte le dieci sefirot o quelle che sono le cinque fasi dove Markut è il desiderio di ricevere per favore andiamo a costruirsi inizia a costruirsi